Una buona Pasqua, restiamo tutti a casa. Questo sabato di Pasqua, domenica, lunedì, restiamo a casa. Ringraziando la Polizia Municipale per il suo straordinario impegno che con i suoi droni ci ricorda il dovere morale e giuridico di restare a casa. Un grazie a tutte le forze dell'Ordine che in questo momento stanno straordinariamente dando un contributo perché nella nostra città non ci sia il precipitare di una crisi terribile dalle conseguenze incalcolabili. Una buona Pasqua a casa.